Buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di Otto Channel. Di oggi mercoledì 15 maggio a tenere banco. Sui quotidiani sono soprattutto le notizie relative al bradisismo dopo il vertice di ieri a Bagnoli. C'è anche ovviamente molta cronaca e poi uno sguardo immancabile su quello che è ormai il braccio di ferro di cui vi stiamo raccontando da mesi tra Regione Campania e Governo sui fondi di coesione. Ieri nuovo round al Consiglio di Stato e questa volta a spuntarla è stato a Palazzo Santa Lucia. Noi cominciamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo sul Roma, il quotidiano fondato nel 1862 e che come al solito insomma dedica la doppia apertura alla fotonotizia con il terrore a Corso Lucci per la rottura di una conduttura che causa una voragine ai residenti invasi dal fango tragedia sfiorata. Poi la notizia di cronaca, ieri una blitz da parte di DDA e Guardia di Finanza che a breve approfondiremo che ha portato tra le altre cose al sequestro della storica pizzeria dal Presidente nel cuore del centro storico di Napoli che sarebbe ormai ostaggio del clan Contini. E poi ancora i richiami in prima, Fondi Uella sentenza, 45 giorni per l'intesa, Green Jobs Napoli fa lavorare i giovani e poi droga nella 219, blitz dei carabinieri. Completiamo lo sguardo della prima del Roma con il taglio alto, lo sport manna contatto con Conte ma il gas rimane in corso e poi ortopedia rischia la chiusura, medici in fuga dal Pellegrini, omicidio Maimone. Valda era armato, ieri è stata la giornata in cui sono stati ascoltati i testimoni. Ma andiamo a vedere la città che sprofonda, si rompe tubo, cede la strada, momenti di terrore a corso, Arnaldo Lucci, le strade limitrofe invase dal fango è accaduto l'altra notte. Non ci sono state vittime né sgomberi, fornitura idrica garantita ovviamente negli occhi di tutti, dei napoletani ma non solo, c'è quanto accaduto recentemente al vomero, la rottura all'altezza del civico 79. L'ABC ha comunicato che la conduttura non era utilizzata per la fornitura delle utenze. Il vicepresidente della seconda municipalità, Petroli, dice monitoreremo affinché i lavori vengano svolti nella maniera adeguata. E poi la paura dei residenti di Via Capaccio, sembrava il terremoto, poi ci siamo trovati allagati. Se fosse accaduto di giorno ci sarebbe potuto scappare il morto. Siamo stati fortunati. Bisogna spurgare le fogne, altre delle voci raccolte dal collega Antonio Sabatino, altrimenti certe cose potrebbero accadere di nuovo. E poi abbiamo visto il richiamo in prima con questa notizia di cronaca davvero insomma che ha travalicato anche i confini locali. Ricorderete insomma la pizzeria dal presidente prende il nome dal titolare che all'epoca preparò la pizza per l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e da allora è stato un punto di riferimento non solo per i napoletani ma anche e soprattutto per i turisti. Ebbene, secondo la DDA e la Guardia di Finanza i capitali dei Contini venivano investiti appunto nel settore della ristorazione. Alba di Manetti ai Decumani, cinque arresti, coinvolti pure una commercialista e un agente della stradale in servizio ad Avellino. Sigilli alla pizzeria dal presidente, nei guai il titolare Massimo Di Caprio. E poi la svolta, grazie all'ex capo Ultras De Tommaso, lo ricorderete per tutti conosciuto come Gerry Agarogna, il pentito accusa il cognato del Ras Capozzoli, entrò in società dopo il prestito di 30.000 euro. E poi abbiamo visto ieri come sia stata la giornata anche delle bandiere blu. Baia Domizia, il new entry tra le 20 località della campagna. Vi volevo però segnalare che ieri è stata anche la giornata del vertice a Bagnoli sul bradisismo. Noi abbiamo preparato proprio un servizio con le voci raccolte nel corso della riunione di ieri che c'è stata. Ascoltiamo proprio il servizio e poi torniamo qui in studio. Il livello di allertamento dei vulcani resta giallo nei campi Flegrei. Lo ha spiegato il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, a margine dell'incontro nella sede della decima municipalità Bagnoli di Napoli con i cittadini relativo al fenomeno del bradisismo nei campi Flegrei. In tal momento è stato confermato lo stato giallo e la commissione valuta periodicamente i prodotti scientifici e fino a che non ci daranno segnali diversi, questo è quello che è stato fatto. Il capo della protezione civile non può che dire certo bisogna costruire meno e bisogna costruire meglio ai campi Flegrei come il resto d'Italia. Nello specifico il sisma bonus è uno strumento economico finanziario ma la valutazione degli strumenti ovviamente non sono in mano alla parte tecnica. D'accanto suo il direttore dell'osservatorio vesuviano Mauro Di Vito annuncia quelle che sono le previsioni degli esperti. Con questo tasso di isolamento dobbiamo aspettarci altri terremoti anche simili a questi anche di magnitudo leggermente maggiore ma ovviamente la roccia si deforma, si rompe e nei luoghi dove riesce ad accumulare più energia provoca anche terremoti di maggiore magnitudo. Intanto il sindaco Manfredi spiega quelle che saranno le priorità su cui intervenire di concerto col governo. Di definire una serie di interventi che devono essere fatti per poter completare le famose vie di fuga che sono in attesa da 40 anni, adesso nella fase di negoziazione col governo centrale sono state già individuate delle priorità, quali le prime strade su cui intervenire quindi progressivamente verranno attribuite le risorse che consentiranno di fare questi lavori. Queste erano le voci raccolte per quanto riguarda il bradisismo, dopo andiamo anche ad approfondire sui quotidiani. Nel frattempo però torniamo su Roma per affrontare un altro discorso di cui abbiamo parlato prima e di cui abbiamo visto anche il richiamo in prima pagina. Fondue, scontro e schiarita. No del Consiglio di Stato affitto, il ministro dice non cambia nulla. De Luca prima attacca, poi frena e dice basta, tensioni, il braccio di ferro dunque è destinato a continuare. E poi andiamo a vedere le vicende irpine, il comune chiamato al voto dopo la tempesta giudiziaria. Il commissario a zera festa ha stilato il regolamento per la totale trasparenza degli atti amministrativi a base di numerose denunce, sbloccato l'affidamento del centro per l'autismo e procedure abbiate per inaugurare il tunnel, scrive Rossella Strianese. Poi turismo, invece siamo a Salerno, si amplia la rete di Amalfi Experience, un piano strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post-covid della perla della costiera. Continuiamo lo sfoglio del Roma, andiamo nel Sannio. La fortorina e le promesse per i cantieri. Il sottosegretario annuncia l'imminente apertura dei lavori per l'ampliamento della rete cinematica regionale. Poi a Sabignano, quella sfida in comune tra maresciallo e brigadiere, una curiosità di cui vi abbiamo raccontato anche sul nostro sito, colleghi presso il comando di Ariane Irpino, si sfidano come candidati a sindaco. Poi le vicende di sanità con gli ortopedici che sono in fuga dal Pellegrini. A rischio chiusura il reparto di eccellenza per mancanza di personale e di buone condizioni lavorative. Vi volevo segnalare questa notizia anche curiosa sulla sicurezza del web. Insomma, sappiamo tutti quanto sia importante. E quando si parla di password è necessario anche trovare degli spunti abbastanza originali. Ebbene, dall'indagine è emerso che le parole Napoli e Juventus sono tra le password più usate in Italia. Ma le squadre di calcio del cuore però sono sconsigliate dagli esperti anche perché sono facilmente aggibili. E poi il dossier di Legambiente, le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili ci dicono che lavori verdi, green jobs, a Napoli da spazio e giovani. La regione è quinta in Italia per assunzioni. In 20 anni sono emigrati 360 mila ragazzi aggriamando però il dato di una popolazione che invecchia in crescita i NIT che in Campania raggiungono le 402 mila unità pari al 33% del totale nazionale. Numeri davvero molto molto complicati e che testimoniano insomma quanto le rinnovabili possano rappresentare un'ancora di salvezza soprattutto per i più giovani per restare qui sul territorio e non essere costretti ad emigrare. Ancora cronaca con l'operazione nella 219 scatta il blitz, la droga, caccia i nuovi narcos, sequestrati pallini di crack e cocaina ma anche stecche di hashish e marijuana. Retata a melito nel fortino degli scissionisti presi quattro specialisti dello spaccio. E poi il processo per l'omicidio di Pio Maimone lo ricorderete, il delitto agli chalet, innocente ucciso. Valda ci puntò una pistola, i parenti della vittima accusano il comune ha dedicato solo un'aula a Pio. Nel frattempo insomma venne ricostruita nel processo la rissa che innescò poi la sparatoria mortale. Poi incendia la sua cella, panico appoggio reale, ancora tensioni in carcere, ne abbiamo parlato anche ieri nel fatto del giorno a cura del direttore Pierluigi Melillo. Andiamo a dare uno sguardo allo sport, ovviamente si parla di mercato, vediamo il punto di Salvatore Cagliazza. Riflettori puntati sulla difesa ma vedremo insomma che in casa Napoli l'obiettivo è soprattutto trovare il futuro allenatore. Buongiorno Calafiori, per rinforzare la difesa, questi due nomi di alto livello sui quali starebbe ragionando il club azzurro, Manna e De Laurentiis stanno provando ad acquistare uno dei due centrali per aggiustare il reparto arretrato. Allora il 25enne del Torino è valutato dal presidente Cairo 30 milioni di euro, su di lui c'è anche l'intercampione d'Italia. E poi il classe 2002 del Bologna costa 25 milioni e il club Felsinio potrebbe aprire un'asta con Milan e Juve che pure hanno chiesto informazioni sul talento ex Roma. Ma dicevamo a tenere banco e soprattutto il Rebus Panchina, c'è l'incontro con Conte ma c'è sempre Gasp. Anche qui si parla del direttore sportivo Impectore, Manna che è ancora sotto contratto con la Juventus, insomma ma sta per diventare l'uomo mercato del Napoli. Avrebbe avuto un contatto con il Leccese a Torino per capire le richieste e il progetto calcistico. L'ex commissario tecnico dovrebbe guadagnare 6 milioni di euro più 2 di bonus in caso di un posto in Champions. De Laurentiis sembra deciso ad ingaggiarlo ma è stuzzicato ancora dalla qualità dell'Atalantino. Insomma si prova a sfogliare un po' i prezzi, i petali della Margherita per quanto riguarda il futuro allenatore del Napoli. E poi i tifosi del Milan sono in subbuglio, stadio vuoto se non arriva Conte. Insomma l'ex allenatore di Juve, Inter e Nazionale è appetito da anche altre piazze, non solo quella partenopea. E poi l'intervista ad Andrea Agostinelli Osimen, la maggior delusione, a Solvek Vara ma non il nigeriano. Quest'anno poca grinta, nuovo allenatore. L'ideale, dice, sarebbe Gasperini. Gasperini che questa sera alle 21 si gioca il primo trofeo stagionale. Ricordiamo l'Atalanta è in corsa anche in Europa League. C'è la finale di Coppa Italia contro la Roma e i bergamaschi partono nettamente favoriti. Poi i playoff di Serie C ieri sera, giornata, serata importante perché il Benevento ha conquistato un pari pesante a Trieste. I sanniti hanno pareggiato la gara di andata in trasferta. Sabato al Vigorito basterà non perdere. Due risultati su tre dunque per la truppa di Mister Auteri. Anche se non sono mancate polemiche per la rete annullata dall'arbitro senza nemmeno consultare il VAR. A proposito di playoff di Serie C, da segnalare il blitz della Casertana che ha espugnato il campo della Juventus Next Gen al 92esimo con una rete di Curcio che è riuscito a portare a casa la vittoria. Lasciamo per un attimo il quadro locale e andiamo su quello nazionale. Vediamo la prima di Repubblica ancora una volta dedicata all'inchiesta che sta terremotando la Liguria. Ebbene potrebbe essere a breve il momento della svolta. Tote a un passo dall'addio cresce la pressione sul governatore. Ipotesi di missioni dopo l'interrogatorio. E l'accusa potrebbe aggravarsi con la contestazione e la concussione. Intervista a Schlein. Non può restare un minuto di più al suo posto. L'allarme dell'anticorruzione. I costi della diga possono esplodere. Inchiesta su Spinelli. Il grande elemosiniere che foraggiava tutti. Poi i mappamondi. Vediamo di lato. Con la legge pro-Russia. La Georgia sfida la piazza. Taglio centrale. Super bonus. Passa la stretta. Forza Italia si astiene. Italia viva in soccorso. E poi questa foto con una diva del cinema. in occasione del 77esimo festival del cinema di Cannes. Meryl Streep. Palma alla carriera. Tra i leoni che non mollano mai. Andiamo all'interno con un'ampia pagina. Cominciamo con questa speculare. Dedicata proprio alla nuova tangentopoli. Come la definisce Repubblica. Toti verso le dimissioni dopo l'interrogatorio. Meloni attendo risposte. Salvini prende le distanze dalla Premier. Bene gli osservatori anticorruzione. Ma io mi fido di imprenditori e sindaci. Il ministro Grosetto dice. Il governatore lascia. In passato gli altri lo hanno fatto. Dunque diciamo si sta rafforzando il pressing stesso all'interno del centro-destra. Affinché Toti faccia un passo indietro. E poi il fondatore del Movimento 5 Stelle. 5 Stelle Grillo che rompe il silenzio. E dice. Ligure Grillo. A Genova gli industriali ti salutano. Dicendo Liban. Lavorai al porto. Si rubava tutti. De battute in un teatro semivuoto. In Liguria governa Rete 4. Gli incorruttibili non sono per bene. Lo era Hitler. L'ironia corrosiva di Grillo. E poi l'intervista alla segretaria del PD proposta da Giovanna Vitale. Ellis Line che dice. Toti non resti un minuto di più. Tutta la politica alzi la guardia. Si fa riferimento ovviamente alle ombre sulla gestione delle amministrazioni locali. In questo caso di quella Ligure. Le carte dell'inchiesta era lui a pressare per avere soldi. Ora su Toti c'è anche l'ombra della concussione. Quindi diciamo un'indagine che alle battute iniziali. Ha già portato a delle misure cautelari anche molto forti. Lo ricordiamo. Il governatore è ai domiciliari. Ma che si evolve di giorno in giorno. Anche perché ci sono gli interrogatori dei vari indagati. Vediamo che il percorso giudiziario sta andando avanti. Ha aperto un nuovo fascicolo. Spinelli e i gemelli testa sapevano delle micro spie IPM a caccia della talpa. È probabile che ci possa essere stato qualcuno che abbia informato le persone coinvolte nell'inchiesta che c'era un'indagine in corso. Vedremo come andrà a finire. Intanto sugli appalti della diga l'ANAC lancia l'allarme. I costi possono esplodere. Cambiamo argomento. Parliamo di super bonus. Una misura adattata dall'ex premier Conte. che nel corso degli anni è diventata anche un problema per i conti. Al di là delle ricadute per l'economia e per le imprese. Sul super bonus Forza Italia sconfitta. La maggioranza si salva grazie a Italia Viva. Fratelli d'Italia aggiunge un senatore della Commissione Finanze per neutralizzare l'otito che poi si astiene. Decisiva anche l'uscita del Trentino Patton. Le coperture per il rinvio della sugar tax intanto trovate tagliando la spesa dei ministeri. Eventualmente se ne parlerà il prossimo anno. E poi boccia del PD. Centro-destra in pezzi. Calpestano le regole come Orban. Faranno fallire migliaia di imprese. E poi cambiamo ancora argomento. Parliamo di quello che accade ai confini dell'Europa. Nel Caucaso in particolare la manifestazione pro Europa in Georgia. Dove è passata la legge russa contro media e ONG. Il paese è in rivolta. Il Parlamento approva le nuove regole sul modello di Mosca. Scontri tra manifestanti e polizia. La Presidente dice non la firmo. Gli usa intanto bloccano i fondi e parlano di svolta nei rapporti. Gli ucraini intanto il fronte della guerra che si fa sempre più complicato per il paese invaso dalla Russia. Sono senza riserve contro i tank di Mosca. Blinken vola a Kiev. Presto le nuove armi assicura il segretario di Stato. Nel frattempo vi volevo segnalare anche questa completa infografica dove si vede chiaramente la situazione sul campo in rosa. Le aree occupate dalle forze russe. Nel frattempo nell'ultimo periodo l'armata di Putin sta spingendo nella regione di Kharkiv. Non solo nel Donbass. E poi ancora il Medio Oriente con l'Israele tra festa e proteste sit-in per gli ostaggi e marce per tornare a Gaza. Sderotti nostalgici degli insediamenti evacuati nel 2005 a Gerusalemme. Fischi alle celebrazioni ufficiali ad Haifa in ricordo della Nakba palestinese. L'anniversario dell'indipendenza. Specchio di un paese diviso. Questa dunque la difficile situazione che si respira e si registra in Israele. E poi vi volevo segnalare questo fatto di cronaca davvero incredibile avvenuto ieri in Normandia. Scene da film. La Gomorra in Normandia. Titola Repubblica. Agenti falciati in strada per liberare il boss. Agguate in autostrada. Evade Mohamed Ammarà, detto la mosca. Uccisi anche due poliziotti penitenziari. E poi questa vicenda di casa nostra di cronaca. Allieva si uccide nella scuola Marescialli dei Carabinieri. Stressata da gerarchi e ordini assurdi. Porte della stanza sempre aperte. E dress code anche in libera uscita. Nostra figlia ci diceva così mi tolgono la vita le parole dei genitori. E poi il PNRR spesi solo 3 miliardi su 20. Il progetto Scuola Arranca rischia di essere un'occasione persa. La fotografia della Fondazione Agnelli Astrid. I ritardi e le contraddizioni dal Piano Nidi al Divario Nord-Sud. Eppure può valere l'analisi 1,3 punti di PIL. Ma evidentemente i progetti e i cantieri faticano ad avviarsi. E poi uno sguardo rapido all'economia. In particolare all'energia. L'utile verde di A2A. L'energia rinnovabile supera le fonti fossili. Profitti in crescita del 70% nel primo trimestre. Grazie all'idroelettrico. riviste a rialzo gli obiettivi 2024 con gli investimenti green sulle reti. Notizie che arrivano proprio all'indomani dello studio. Secondo cui in Europa per la prima volta la produzione di energia da fonti rinnovabili ha superato quella fossile. L'Italia deve ancora investire tanto da questo punto di vista. Uno sguardo rapido sullo sport. Abbiamo visto Juventus aver detto finale contro l'Atalanta e la paura. Questa sera c'è la finale di Coppa Italia. che può interessare di lato anche il Napoli. I cui riflettori abbiamo visto su Gasperini. E poi uno sguardo anche alla Formula 1. Monza o Imola? Uno è di troppo. Dopo il 2026 un gran premio può saltare. Domenicali dice difficile conservare due gare. A fine anno il punto con governo e ACI. Noi lasciamo l'edizione nazionale di Repubblica e guardiamo il dorso locale partenopeo sempre del quotidiano romano. In questo caso l'apertura è dedicata al braccio di ferro sui fondi di sviluppo. Vince la regione De Luca Fitto. Ora firmiamo la sentenza del Consiglio di Stato. Sancisce l'obbligo per il Ministero di stipulare l'accordo di coesione. Il Presidente smorza i toni. Solidarietà nazionale rispetto reciproco. Ma su Bagnoli resta la tensione. Poi questa bella fotonotizia con il richiamo evidentemente alla costa cilentana. Mare in Campania 20, bandiere blu vincono Cilento e costiera Sorrentina. Andiamo all'interno del dorso napoletano di Repubblica. Si parte da Bagnoli, Napoli Est e alberghi nell'agenda delle imprese arabe. E a ottobre missione a Riyadh per gli industriali campani. Si è conclusa ieri, la tre giorni, con la delegazione saudita che ha fatto tappa a Napoli. E' saltato nel pomeriggio l'incontro a Lacen perché la delegazione è dovuta andare via prima. Ma è stata un'occasione proficua per valutare, ha detto il Sindaco Manfredi, eventuali occasioni di investimenti del paese del Golfo nella città. Che ha giunto la fascia tricolore. Vuole riacquistare la centralità nel Mar Mediterraneo. E poi oggi c'è la riunione dei consiglieri, la vicenda del mercadante. Lo ricorderete con De Luca che ebbe parole al vetriolo nei confronti del direttore Andò. Ma il comune va verso la conferma. Quindi diciamo un ulteriore motivo di scontro tra comune e regione. Dove i rapporti evidentemente non sono propriamente idilliaci. E poi l'apertura. Il Consiglio di Stato boccia il governo. Ora firmi l'accordo con la regione. La sentenza sui 6 miliardi di fondi di coesione e sviluppo. Ne abbiamo parlato tantissimo anche in queste settimane su 8 channel. Insomma è arrivato un provvedimento da parte dei giudici amministrativi che assegnano un round importante a Palazzo Santo Alessio. A Fitto dovrà infatti sbloccare le risorse. De Luca dice vittoria straordinaria e no all'uso dei fondi FSC per Bagnoli. Meloni meno dirette Facebook. Grave che derida Patriciello. Si torna dunque a parlare delle parole sul Pippo Baudo dell'area di Napoli Nord. Ricorderete la battuta del governatore durante una diretta. Che ha scatenato un vero e proprio putiferio. Anche qui vediamo su Repubblica. Spazio delitto degli chalet. Un test e balda mi puntò la pistola. Polemica della famiglia della vittima. Intanto è poco intitolare soltanto una sala. A Francesco Pio la vittima dell'agguato. E poi i soldi di Camorra nelle strade del turismo. Sequestrata la pizzeria dal presidente. Scattano cinque arresti. Sigilli a beni per tre milioni e mezzo. Compresi immobili dalla società proprietaria del locale di Via Tribunale. L'imprenditore di Caprio con vari precedenti. Aveva come socio occulto il cognato Capozzoli. Legato al clan Contini. Queste dunque le risultanze investigative nell'inchiesta condotta dalla DDA. E coordinata dalla Guardia di Finanza. Campi Flegrei, piani di fuga e viabilità. Abbiamo visto prima il servizio. I residenti dicono troppi rischi. Abbiamo paura. Le istruzioni per le prove di evacuazione del 30 e 31 maggio. Tensione all'Assemblea con il capo della protezione civile Curcio. Al momento confermato lo stato di allerta giallo. De Vito, la guida dell'osservatore Vesuviano, dice è possibile che si verifichino terremoti con magnitudo più alta. Anche perché negli ultimi mesi il sollevamento del suolo sta accelerando ad un ritmo doppio rispetto ai mesi precedenti. E poi le buone notizie per quanto riguarda il mare. In Campania 20 bandiere blu. Da Sorrento a Positano fino al Cilento. Un vessillo in più rispetto al 2023. La New Entry e Cellole lungo Baia Domizia. Dopo anni di spiagge negate. Premiate anche gli approdi turistici. Da Pozzuoli al Cilento. E poi andiamo a vedere rapidamente lo sport. Anche qui su Repubblica si parla della suggestione Conte. Trattativa oltranza il nodo è la clausola fumata grigia nel vertice di ieri. C'è l'accordo sul triennale da 7 milioni. Ma il Presidente pone una condizione. Il ritorno immediato in Champions. Andiamo a vedere poi come finirà. Continuiamo lo sfoglio dei quotidiani locali. Apriamo la pagina di cronache di Napoli. In questo caso non poteva non essere l'apertura dedicata all'inchiesta sul presunto riciclaggio per il clan Contini. 5 arresti, sequestrata la pizzeria dal Presidente, il Direttore Incella insieme alla moglie e al cognato, un poliziotto e una commercialista, i domiciliari, gli incassi del locale per finanziare il clan. L'indagine è partita dalle rivelazioni di Gerry a Carogna. E poi solo una sala dedicata al pizzaiolo ammazzato, la famiglia si ribella, salta d'inaugurazione e ancora a centropagina, spaccio di droga a Melito presi in quattro, l'operazione contro la vendita di stupefacenti nel rione 219, sotto chiave hashish, marijuana, cocaina e crack. Andiamo a vedere la prima del quotidiano gemello, ma ci spostiamo di provincia, vediamo cronache di Caserta. Ovviamente anche qui si parla di cronaca con quanto accade a Casal di Principe, la guerra ai bidognetti di Schiavone Junior, l'anatema di Emanuele Libero a Gianluca, quando esce dal carcere non metta piede a Casale. L'ordine del figlio di Sandro che hanno emerso durante una conversazione tra Nicola Orussa e i fratelli intercettata dagli agenti della DIA. E poi abbiamo visto qui la Casertana, con Curcio che stende la Juve all'ultimo respiro, gioiello da numero 10, Casertana pazza di gioia, e ovviamente anche tanto spazio all'esultanza del sindaco di Cellule di Leone che ha conquistato la bandiera blu, Baia Domizia, la ventesima località della Campania, Campania terza a livello nazionale dietro Liguria e Puglia, lo ricordiamo. Continuiamo il nostro sfoglio dei quotidiani, andiamo in un'altra provincia, ci spostiamo adesso a Salerno, vediamo cronache, il quotidiano diretto da Tommaso D'Angelo. In apertura la sanità, ruggi, analisi privata al pronto soccorso, medico denunciato in ass per favori privati, presentata da un infermiere, il trucchetto del codice giallo. E poi la politica, con l'intervista a Nicola Benedetto, alle europee con Fratelli d'Italia, la politica per me è un'attività nobile, sono l'unico lucano candidato nel mio partito. E poi il ritratto di Antonio Manzo, Ateneo a 5 stelle, Maurizio Sibilio, da centrista con la Margherita, ha pentastellato per le europee le polemiche, insomma per la candidatura di un esponente importante dell'Ateneo di Fisciano alle europee e le polemiche inevitabili che ne sono seguiti. E poi i fondi di coesione, De Luca vince la battaglia, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del governo e poi i fondi di coesione, la sentenza del Consiglio di Stato, è una vittoria di tutto il mezzogiorno, una sintesi delle reazioni che arrivano un po' da tutte le forze politiche. Vi volevo segnalare anche il richiamo sulla Salernitana, perché sul futuro del Club Granata c'è ancora un po' di incertezza. Vera Holdings tratta un accordo incrociato con gli Ervolini, insomma il Presidente ancora non è chiaro se voglia continuare la sua avventura, seppure in Serie B, oppure cedere le quote proprietarie del cavalluccio marino. Restiamo a Salerno, ma ci spostiamo alla città. L'apertura è dedicata all'incidente mortale avvenuto la notte scorsa. Strade maledette, Gianluca muore a 36 anni, tragedia a Cava dei Tirreni, il fisioterapista di Salerno finisce con lo scooter contro una spartitraffico, inutili soccorsi, lascia moglie e due figlie oggi funerali. I messaggi di dolore degli amici e dei pazienti ci hai lasciato senza parole. Un'ennesima tragedia sulle strade, di cui abbiamo raccontato anche ieri con il servizio a cura della nostra collega Sara Botte. Chiudiamo con uno sguardo al Corriere dello Sport, anche qui apertura dedicata a Napoli e al Conte. Prove di sorpasso, sabato avvisto il Napoli, dialogo aperto, caccia al nuovo tecnico, Gasper rimane la priorità, ma è legato all'Atalanta. E poi la Coppa dell'Addio, Atalanta-Juve, trofeo in pali all'Olimpico, dell'Addio ovviamente si parla degli allenatori, che probabilmente possono lasciare le rispettive panchine, a Leghi quella della Juventus e Gasperini, quella dell'Atalanta. In chiusura, prima di salutarvi, uno sguardo rapido alla nostra prima pagina del sito 8pagine.it, ricordiamo che è sempre aggiornato, in apertura il giallo di Castellammare, con l'Ucraino trovato morto, le indagini sono ancora in corso. Inizialmente sembrava si trattasse di un omicidio, poi insomma la polizia sta provando a capire cosa sia avvenuto dopo una serata insieme. Poi riflettori ovviamente sui play-off di Serie C, Triestina-Benevento 1-1, rivivi la diretta, all'interno ci sono tutti i dettagli, gli highlights della partita, e poi da Salerno, Maiori, l'incidente in moto sulla Malfitana, due turisti messicani sono caduti in un torrente, sono precipitati, per poi essere recuperati in elicottero all'interno. Ovviamente poi troverete tutte le varie sezioni e delle province, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, sempre aggiornate. Bene, queste sono, si chiude qui, adesso l'edicola di 8 Channel, di oggi mercoledì 15 maggio, curata in regia da Aldo Fenizia. Io vi ringrazio per averci seguito, e vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione di 8 Channel torna puntuale alle ore 14 con il Tg. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.